Anticipazioni Terra Amara Nel cuore avvincente di questa storia, tra segreti sepolti e tensioni inesplose, una rivelazione epocale attende di emergere. Un momento che cambierà le sorti dei personaggi e getterà luce su un passato oscuro. Finalmente si svela la verità dietro un evento che ha tenuto gli spettatori con il fiato sospeso, la morte di Adnan Yaman, marito di Unkar Yaman e padre del temibile e autoritario Demir Yaman. Questa rivelazione non è soltanto un punto di svolta nella trama, ma promette di essere un momento cruciale nella narrazione. Non solo risponderà a molte domande che hanno tormentato sia i personaggi che il pubblico, ma avrà anche un impatto significativo sulle dinamiche tra di loro. In particolare, questa scoperta scagionerà completamente Fekeli, un personaggio complesso avvolto sinora da un'aura di mistero e dubbi, gravato da accuse e sospetti che ora si dimostreranno infondati. La risoluzione di questo enigma è attesa con grande trepidazione dagli appassionati della SOP, i quali non vedono l'ora di assistere non solo a una svolta narrativa, ma anche a un profondo sviluppo dei personaggi e delle loro relazioni. La rivelazione sulla morte di Adnan Yaman promette di essere un momento chiave che potrebbe cambiare per sempre il corso degli eventi in Terra Amara, segnando un prima e un dopo nella storia della serie. La trama prende forma quando Unkar riesce a rintracciare Fekeli, l'unico testimone ancora vivo della presunta uccisione di Adnan. Questo uomo confesserà a Unkar che Adnan non era disarmato durante lo scontro e che lo aveva portato in prigione per più di venti anni. Ammetterà anche di aver mentito agli investigatori, così come avevano fatto gli altri due testimoni ormai deceduti, il tutto su ordine diretto di Demir, che all'epoca studiava in Germania. Sconvolta da queste parole, Unkar comprenderà che Demir le aveva sempre nascosto molte verità, e desiderosa di chiarire la situazione, si recherà a casa di Fekeli per affrontare il problema. Nel corso della trama, uno degli aspetti che più cattura l'attenzione del pubblico sono i momenti di flashback. Questi brevi viaggi nel passato non sono solo strumenti narrativi efficaci, ma servono anche a fornire contesto e chiarimenti sui misteri che avvolgono i personaggi principali. Uno di questi flashback in particolare si rivelerà fondamentale per comprendere meglio la complessa relazione tra Adnan, Yaman e Fekeli. In questa scena cruciale di Terra Amara, che si svolge anni prima degli eventi narrati nella serie attuale, gli spettatori avranno l'opportunità unica di viaggiare indietro nel tempo. Questo flashback, un dispositivo narrativo potente e spesso utilizzato nella serie, ci porta in un momento storico cruciale che ha plasmato le vite dei personaggi principali. Questa scena si svolge in un luogo isolato, un'ambientazione scelta appositamente per sottolineare la gravità e la segretezza dell'incontro tra i due uomini. Questo luogo, lontano da occhi indiscreti e orecchie curiose, è l'ideale per un confronto così intenso e personale. L'isolamento del luogo aggiunge un senso di tensione e mistero, pochi gli spettatori si rendono conto che ciò che sta per essere rivelato è di importanza cruciale. Fino a questo punto della serie, Adnan è stato avvolto nel mistero, ma finalmente viene portato sotto i riflettori. Conosciuto per la sua influenza e il suo potere, Adnan è stato oggetto di discussioni e speculazioni, ma il suo vero carattere e le sue motivazioni sono rimasti celati finora. Uno dei momenti più attesi è l'incontro tra Adnan e Fecheli carico di tensione. Questa scena è essenziale per capire il conflitto sottostante che ha influenzato molti degli eventi successivi nella serie. Mentre i due uomini si confrontano, il pubblico assiste a uno scambio di parole carico di significato, dove ogni frase e ogni gesto ha un peso. Questo momento rappresenta un punto di svolta nella narrazione di Terra Amara, una connessione tra passato e presente dove le azioni e le decisioni prese in questo luogo isolato hanno risonanza e impatto sugli eventi. Adnan aveva convocato Fecheli in quel luogo appartato con un obiettivo preciso, ordinarli di lasciare per sempre Kukurova e di rinunciare a tutte le sue proprietà. Questa richiesta carica di tensione e minacce rappresenta il culmine di una lunga faida tra i due uomini. Fecheli aveva rifiutato categoricamente di sottomettersi a tali richieste, e la situazione aveva raggiunto il suo apice quando, soprafatto dalla rabbia e dalla frustrazione, aveva estratto una pistola puntandola contro Adnan. Inizialmente, Fecheli aveva deciso di non sparare. Il colpo di scena arriva quando Adnan, forse spinto dal terrore o dalla rabbia, aveva estratto a sua volta una pistola. Prima che potesse agire, Fecheli aveva reagito istintivamente uccidendolo, in quello che si rivelerà essere un chiaro atto di legittima difesa. Questa scena rivela un tassello cruciale per comprendere le successive e infondate accuse rivolte a Fecheli. Emerge chiaramente che la sua azione era guidata dalla difesa personale, non dall'aggressione. Il flashback si conclude con la sconvolgente rivelazione che Fecheli era stato ingiustamente incastrato. Testimoni falsi, al servizio del figlio di Adnan, Demir, avevano distorto la realtà dei fatti, dipingendo Fecheli come un assassino freddo e calcolatore. Questa manipolazione della verità costituisce un esempio lampante di come il potere e l'influenza possano essere utilizzati per deviare il corso della giustizia. In sintesi, questo flashback non solo getta nuova luce sulla figura di Fecheli, rivelando il suo coraggio e la sua integrità, ma svela anche le macchinazioni oscure che hanno portato alla sua ingiusta condanna. Quando Uncara prende tutti i dettagli, sente il bisogno di chiedere perdono a Fecheli, poche si avesse indagato prima, avrebbe potuto risparmiargli gli ingiusti anni trascorsi in prigione. Durante questa intensa conversazione, emerge chiaramente che i due si erano amati in passato, nonostante l'opposizione della famiglia di Uncara. Ora, torniamo alle puntate attuali di Terra Amara. Zuleya trova un documento segreto di Adnan Yaman, il padre di Demir, dove è scritto che Betul e Demir non sono cugini, ma ha fratelli. Se vorresti altri video come questo, scrivissi nei commenti e riceverai altri video in anteprima. Iscriviti al canale e lascia un mi piace. Ciao! Grazie! 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 Grazie!